Benvenuti, cari follower, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle zone interessate da pioggia e forti temporali domani, lunedì 1 luglio 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video e iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Grazie. Quindi da domani, lunedì, le temperature caleranno al nord e forti temporali raggiungeranno diverse zone del nord e del centro Italia. I temporali saranno deboli e sparsi nel corso della mattinata. Nel corso della serata, però, questi temporali aumenteranno di intensità e saranno accompagnati da grandine, con rischio di allagamenti improvvisi, soprattutto sul nord-est d'Italia. Quindi domani e lunedì temporali molto forti verso Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna. Temporali moderatamente forti a nord della Sardegna Marche. Deboli temporali e deboli piogge su varie zone della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Qualsiasi altra notizia importante, cercheremo di aggiornarvi più tardi.